I flussi piroclastici hanno fatto molte vittime, a Pompei se ci si trova sul passaggio di un flusso piroclastico non si sopravvive, a Pompei sono molto più della metà sono stati trovati nei flussi piroclastici e di queste 650 persone il 51% era in luogo chiuso e il 49% in luogo aperto, quindi non fa nessuna differenza dai flussi piroclastici, bisogna solo allontanarsi dalla zona dove potrebbero arrivare e non è una cosa facile da identificare, né lo potevano sapere negli abitanti di Ercolano né quelli di Pompei. In questa fotografia si vede un gruppo di 13 persone che cercavano di raggiungere Porta Nocera, sono state trovate nel corso degli scavi di Amedeo Maiuri, uno dei direttori degli scavi che più ha dato un'impronta moderna nella prima metà del secolo scorso agli scavi archeologici e sono stati trovati sopra lo strato di Pomici, lo strato di Pomici in una zona che è in un cortile, in un frutteto chiamato l'orto dei fuggiaschi. L'altezza dello strato di Pomici in questo caso lo si può dedurre direttamente perché nel podere accanto è rimasto uno dei pochi affioramenti di prodotti volcanici all'interno della città, non è purtroppo accessibile però si vede ancora chiaramente come dà l'indizio di che spessore potevano avere le Pomici all'interno di questi luoghi aperti, di questi frutteti e la particolarità è che questi corpi anche in questo altro podere a fianco dell'orto dei fuggiaschi si trovino sopra circa 3 metri di Pomici e sopra un sottile strato di cenere che corrisponde praticamente al deposito del primo flusso piroclastico che è passato sopra la città di Pompei. Ora in un altro affioramento, questa è una fotografia fatta durante gli scavi nel giardino della casa del criptoportico di Pompei, si vede che la posizione stratigrafica è la stessa, cioè sopra le pomici e sopra questo strato sottile di cenere del primo flusso piroclastico, poi questi corpi sono stati poi ricoperti dalla cenere degli altri flussi piroclastici. Ora se si potesse disporre di maggior dati di dove sono state trovate le altre persone, chiaramente si può ipotizzare che dopo l'arrivo del primo flusso piroclastico ci sia stata una pausa nell'eruzione o perlomeno che verso Pompei per un certo periodo non siano arrivati altri flussi, tanto da spingere la gente all'aperto nel tentativo di salvarsi e questa è la disposizione attuale dei fuggiaschi, delle persone che erano nell'orto dei fuggiaschi e questa invece è nel momento del ritrovamento. Diciamo che alle volte gli archeologi in una specie di foga di anastilosi storica, didattica o conservativa riescono a privare certi reperti del loro contesto più importante. Alcune persone dell'orto dei fuggiaschi hanno avuto una morte più lenta probabilmente perché cercano quasi di uscire dallo strato di cenere e hanno la parte superiore del corpo nello strato successivo. Altri invece sembrano semplicemente addormentate e diciamo che corrispondono di più alla descrizione che fece Plinio il giovane dello zio morto nel corso di questa eruzione quando disse simile a colui che dorme più che a una persona travolta da un qualcosa di violento e difatti anche queste rispecchiano proprio questa posizione. Anche questi tre trovati nei pressi di Porta Nocera quindi un pochettino più avanti rispetto a quelli dell'orto dei fuggiaschi un po' più vicini a una zona più sicura però anche questi colti da uguale sfortuna diciamo. A Ercolano ci sono solo vittime nei flussi piroclastici ma la particolarità di Ercolano è che fino al 1980 praticamente si erano trovate solo poche decine di persone perché essendo arrivati i flussi almeno 10-12 ore dopo l'inizio dell'eruzione si pensava e si sperava che si fossero salvati quasi tutti ma negli scavi di prosciugamento dell'antica spiaggia di Ercolano quella che si trovava davanti alle terme suburbane vennero alla luce oltre 300 corpi. Gli ercolanesi quindi si erano molto in ritardo avevano cercato di salvarsi scendendo dalle scale che portavano sulla spiaggia. Sulla spiaggia si sono rifugiati all'interno di questi fornici che facevano parte di questa struttura a sostruzione dell'edificio che si affacciava sulla spiaggia. Si sono addensati in questi fornici con una densità maggiore di 3 persone per metro quadro in gruppi che variano da 15 a 40 persone e probabilmente cercavano anche di prendere il mare che era in burrasca. C'è un solo pezzo di una barca sulla destra proprio davanti alle terme suburbane che è stata recentemente esposta al museo di Ercolano, recuperata, ristrutturata ed esposta al museo di Ercolano. Il ritrovamento di questi corpi, a sinistra c'è una fotografia fatta al momento dello scavo esattamente come sono stati trovati questi scheletri e adesso sono due fotografie del National Geographic che finanziò lo scavo diretto da Giuseppe Maggi e queste sono fotografie prese direttamente, mentre attualmente all'interno dei fornici da pochi anni sono state risistemate delle riproduzioni in resina degli stessi scheletri trovati all'interno. Ora questo ritrovamento è stato particolarmente importante non solo per l'archeologia che ha potuto disporre di una grande varietà di materiali biologici provenienti da questi scarni, ma anche per l'antropologia fisica, soprattutto perché in queste le bie romane usavano bruciare i morti, quindi questo è quasi un censimento di una popolazione intatta e per la paleopatologia che è la scienza che studia le malattie dei tempi passati, studiando direttamente i cadaveri, normalmente da siti cimiteriali, ha avuto a disposizione una gamma di popolazione sana integra che non è morta né per età né per ragioni biologiche, ma solo travolta appunto improvvisamente da un'eruzione, oltre a non essere composti per l'inumazione rituale con gli oggetti rituali, ma avevano con sé sacchetti che contenevano monete, avevano con sé tutte le cose che ritenevano più preziose di doversi portare durante una fuga, quindi diciamo che il loro ritrovamento ha avuto una grande vantaggio. Ci sono poi scoperte anche usi, abitudini, deformazioni nelle ossa, c'era un ragazzino di otto anni che aveva un braccio spezzato e accanto aveva un rametto di vite che probabilmente serviva per bloccare l'arto rotto e la cosa più strana è stato un ciuffo di capelli scuri sulla testa di una ragazza bloccato da un fermaglio di metallo, gli ossidi avevano trattenuto questo ciuffo di capelli al cui interno al microscopio risaltò nettamente la forma di un pidocchio. Poi analizzando i vari testi, i vari crani delle persone si vide che tutte recavano i segni, le piccole lesioni come quando ci si gratta per un prurito, quindi possiamo dire che una colonia romana ricca, benestante e aveva comunque un'infestazione quasi generale di pidocchi. Oltre a queste informazioni vediamo che sulle persone la temperatura dei flussi piroclastici si evidenzia anche per questo rattrappimento, per una contrazione dei nervi causata dalla temperatura dei flussi, è chiamata una posizione da pugilatore, queste sono due eruzioni molto più recenti di quella, una del vulcano Pelé in Martinique e l'altro del Mount Leamington in Nuova Guinea e vediamo che anche questa più recente ancora in Guatemala del 2018, ma i calchi di Pompei recano esattamente questa stessa posizione con i nervi contratti dalla temperatura e ce ne sono più di uno e si vede anche in questi calchi, questo piede per esempio che non solo ha la contrazione ma si vede come all'interno del gesso fuso che ha riempito la cavità lasciata dei corpi nella cenere è conservato interamente lo scheletro dalla persona stessa, alle volte non si vada a questo particolare, non è solo una riproduzione in gesso ma è esattamente la forma del corpo, anche qui si vede il cranio completamente. E questa è abbastanza impressionante, è stata esposta alla recente mostra del Museo Madre di Napoli dove si vede un adulto sempre con questa posizione di pugilatore che forse cerca di sollevare o comunque di trattenere un bambino congelati nel momento della morte proprio dal flusso stesso e anche quest'altra immagine. Ci sono tra i vari dati ricavati proprio per la paleopatologia c'è anche questa ricchezza di persone che vanno dal feto ai 18 anni che sono normalmente assente nelle necropoli e quindi hanno fornito dei dati molto importanti. Ma c'è qualcosa che più di altro ha resistito sia alle pomici che ai flussi piroclastici e questi sono gli edifici che hanno delle coperture, strutture a volta sia a Pompei che ad Ercolano e soprattutto all'interno delle terme perché le terme in genere avevano queste strutture a volta percorse da queste danervature che avevano che avevano lo scopo di impedire la condensa dell'acqua in questi ambienti caldi e umidi in modo che non gocciolassero i soffitti ma seguissero lungo le pareti, l'umidità scendesse lungo le pareti. Anche delle stanze di notevole altezza si sono conservate integre praticamente quando hanno questa copertura a volta e l'accostamento fra queste due piccole strutture sono uguali come dimensioni e come forma, hanno due scopi molto diversi, uno è il castello Macque di Pompei e uno è il carcere di Saint-Pierre. Questa ultima struttura è molto famosa perché al suo interno si salvò l'unica persona di Saint-Pierre nel corso dell'eruzione del vulcano Pelé del 1902 su 28 mila abitanti della città e quindi diciamo che sono due forme di edifici che vanno tenuti in considerazione qualora si volesse pensare a dei rifugi provvisorio o tenerne presente nei criteri di edificazione di questi luoghi che sono sottoposti al rischio vulcanico.